Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un po' di chiacchiere in libertà perché voglio parlare un po' non solo della storia di Candy perché di quella insomma ho già parlato ampiamente, più che altro vorrei parlare delle scelte fatte in questi anni dall'autrice di Candy Candy e cioè Keiko Nagita, nome d'arte, Kyoko Mizuki che è il nome con cui firmò negli anni 80 diciamo la storia di Candy insieme alla mangaka Yumiko Igarashi. Io voglio soffermarmi un pochino sulle scelte come vi dicevo prima operate da Nagita in questi anni perché dopo aver rimuginato, un po' l'ho già detto nei miei video precedenti dopo aver rimuginato su questa cosa di Candy, sul fatto che lei abbia scelto di non rivelare il nome di Anuito, io ho cambiato sinceramente un po' idea su Nagita, nel senso che la mia valutazione da positiva è diventata non tanto positiva, diciamo quasi negativa se devo essere sincera, perché a dire il vero io una scrittrice, un'autrice la valuto per come tratta la sua storia e non per come la vende, perché all'inizio eravamo tutte entusiaste di questo romanzo di Candy, pensavamo di trovarci chissà che cosa, un sequel, in realtà il sequel non c'è, ci sono degli agganci, uno scorcio, possiamo sbirciare un attimino nel futuro di Candy, di quello che è stato il suo futuro, ma poi non è che ci viene raccontato più di tanto, e allora io mi son detta, ma io questa scrittrice, scrittrice, autrice, come la devo valutare? Perché se la devo valutare per come ha venduto la sua storia, lei l'ha venduta benissimo, perché questa cosa di non rivelare il nome di Anuito fa sì che ancora oggi a distanza di 40 anni si parli di una storia come quella di Candy, che se uscisse oggi sarebbe vecchia come il cucco, e quindi la storia l'ha venduta bene, ma io la devo valutare come autrice e non come addetta marketing, addetta alle vendite, e sinceramente come autrice io penso che lei la sua storia non l'abbia trattata bene, non la stia trattando bene, anzi l'abbia anche un po' bistrattata. Da noi si dice, non so se Nagita conosce il nostro detto, excusatio non petita, accusatio manifesta, cioè chi si giustifica, chi si scusa, si accusa. Se non hai niente di cui giustificarti, perché ti giustifichi? E quello che un po' mi ha dato da pensare infatti sono proprio le parole della sua postfazione al romanzo che io ho letto tante tante volte e ogni volta ci trovo sempre degli spunti al romanzo dei Candy ovviamente, e ovviamente ci trovo degli spunti sempre nuove, perché vedete non è tanto il fatto che lei abbia scelto di non rivelare il nome di Anoito e non rivelando appunto chi è il compagno di Candy, non rivela poi tutta una serie di dettagli, non racconta la storia che lei ha in testa. Ma quello che mi fa pensare è il fatto che lei poi si sia scusata, si sia giustificata, abbia messo le mani avanti per questa cosa. Devo scusarmi con i lettori perché questo dettaglio, il nome di Anoito, io non lo rivelerò mai. Oppure, potevo scrivere un sequel ma non l'ho fatto perché ormai è troppo tardi. Oppure, immagino una Candy pronta a vivere il periodo della seconda guerra mondiale ma questa storia la terrò per me nella mia testa. Ma scusate, io che giudizio posso dargli un'attrice del genere, di una scrittrice del genere? C'è una scrittrice che mi dice, mi è stata data la possibilità di mettere in prosa la storia di Candy, ho vinto la causa, la storia ce l'ho in testa ma non la scrivo. A me non risultano precedenti di questo tipo, sinceramente. E perciò sono un po' perplessa proprio per il fatto che lei si sia scusata. Allora tu perché ti scusi? Perché dici che hai in testa una storia? Perché forse un giorno qualcuno questa storia la scriverà magari sotto tua dettatura, sotto altre forme? Perché vuoi tenerti sempre uno spiraglio aperto rispetto alla storia di Candy? Ho l'impressione che siamo di fronte a una di quelle autrici che fa fatica a lasciare andare la sua storia. Adesso faccio un paragone un po' azzardato, cioè faccio un paragone non azzardato nel senso può sembrare strano questo paragone con un telefilm molto recente del quale è stato realizzato un sequel dopo molti molti anni. Sto parlando di una mamma per amica che è un telefilm a cui sono molto legata e dopo tanti anni insomma si aspettava questo sequel e sinceramente la delusione che ho provato nel guardare questo sequel è stata la stessa che ho provato nel leggere il romanzo di Candy perché dopo tanti anni tu autrice vai a mettere le mani su questa storia, sto parlando di una mamma per amica, non la concludi, mi presenti dei personaggi imbrigati nei loro complessi personali e chi ha visto il sequel di una mamma per amica, quelle quattro puntate lunghe di oltre un'ora sa di cosa sto parlando e per di più finale aperto ancora una volta e siamo di fronte alla stessa cosa che è successa con Nagita. Non concludi la storia perché diciamo la storia sì è conclusa però poi nella postfazione dici che nella tua testa non è questo il finale, non è conclusa, l'ultimo capitolo non è stato raccontato. Lasci un finale tra virgolette aperto che per me non è aperto, lo sapete per me è una certezza che Anohito sia Albert, però per una parte di fandom il finale è aperto perché l'autrice non ha detto chiaramente il nome del compagno di Candy. Lascia i personaggi un po' imbrigati nel loro passato e per me la sensazione di delusione è stata esattamente la stessa e quindi credo che sia un po' un'autrice che fa fatica a lasciare andare questa storia. L'altra cosa di cui io sospetto è che non mi fa piacere, cioè che mi fa poi valutare Nagita negativamente, è appunto l'operazione di marketing che è stata fatta intorno al nome di Anohito, ovvero sulla non rivelazione del nome di Anohito. Io adesso non so se Nagita avesse già in mente la reazione del fandom rispetto a questa cosa qui. Certamente, certamente sapeva come era messo il fandom occidentale al riguardo perché c'erano state anche delle petizioni per far concludere la storia con Candy che ritrovava finalmente Terence, quindi lo sapeva come era messo il fandom. E quindi quando lei nella postfazione dice ma io questo nome non l'ho rivelato e in fondo mi sono anche un po' divertita, no? Io torno a quello che ho detto prima, io non la posso valutare positivamente Nagita, ma forse non la posso valutare proprio come autrice, non classificata come autrice, perché un'autrice che mi dice una storia in testa, avevo la possibilità di raccontarla ma non l'ho raccontata. Boh, io non so neanche se a questo punto possiamo dire che esista una storia di Candy messa in romanzo. A questo punto io dico che la storia vera di Candy è prioritariamente il manga e poi l'anime che abbiamo conosciuto nella trasposizione che è avvenuta grazie alla Toei Animation. Perché poi vedete, il romanzo ha fatto sì che si creasse una sponda per tutta una serie di interpretazioni che non c'entrano niente con la storia di Candy, ma nemmeno con quella che è la storia della storia di Candy, cioè la storia di come è nata Candy Candy. Perché c'è tutta una parte di fandom che dice addirittura che Nagita non era d'accordo con la Igarashi rispetto al finale della storia. Io recentemente ho realizzato un'intervista che vi lascio in descrizione a Thomas Lai, che è un ragazzo, un artista italo-francese, che ha lavorato nello studio della Igarashi negli anni 90 e che ha confermato che la Igarashi e Nagita erano assolutamente d'accordo sulla storia di Candy e che la diatriba legale non è nata perché erano in disaccordo sul finale, anche perché oggettivamente la storia di Candy, per come è strutturata, si capisce, si capisce benissimo dove voleva andare a parare. Perché se tu mi introduci questo principe della collina all'inizio della storia significa che in testa le autrici avevano quella cosa lì, cioè che si doveva chiudere la storia con la rivelazione dell'identità di questo principe conosciuto dalla protagonista in giovanissima età. Quindi il personaggio principale maschile viene introdotto all'inizio della storia. Ora che l'abbia creato Nagita, che la Igarashi l'abbia vestito col kilt, che l'editorio abbia detto che era scozzese e quindi dovevamo inventarci l'immigrazione dalla Scozia. Ma se era tutti d'accordo sulla storia, cioè questo deve essere chiaro, chiaro come il sole. Poi io personalmente, poi all'interno di questa struttura lineare, di questa base, ci inseriamo il primo amore, il secondo amore, Terence, la separazione, Susanna. Ma questo è venuto dopo. Quello che era chiaro fin dall'inizio era proprio l'introduzione della figura di Albert, che doveva avere diverse identità. Io, peraltro, ho cambiato idea anche sulla questione della diatriba legale. Perché? Perché chiaramente è un peccato che Nagita e Igarashi lì abbiano litigato e siano arrivati a un punto tale da non consentire più la ripubblicazione del manga e la messa in onda di Candy. Va bene. Ma questa diatriba legale noi la conosciamo solo dal punto di vista di Nagita, perché Nagita è l'unica che l'ha raccontata. Cioè, noi sappiamo com'è andata la diatriba dal punto di vista di Nagita, perché c'è stato un periodo in cui Nagita scriveva sul suo blog, ha scritto delle lettere ai fan. A me non risulta che la Igarashi abbia poi raccontato la sua versione. Quindi, da un certo punto di vista, noi conosciamo solo la campana di Nagita. Perché anche sulla sentenza, io qualche perplessità ce l'ho, perché è una sentenza che mi dice, Nagita è titolare unica ed esclusiva della storia, quindi può farne quello che ne vuole, quello che vuole, a patto che non usi le immagini. Mentre, d'altro canto, Igarashi non può usare le sue immagini senza il consenso di Nagita, perché quelle immagini non possono essere scollegate dalla storia. Ma come? Cioè, anche la storia di Nagita non può essere scollegata dalle immagini, perché io quando leggo il romanzo inevitabilmente mi viene in mente la Candy di Igarashi, il Terence di Igarashi, l'Albert di Igarashi. Cioè, non è che si scappa da questa cosa qui. La storia di Nagita, certamente, è di Nagita nell'impianto generale, però tante cose non sono nate solo da Nagita. E questo è palese, questa è una cosa che ha raccontato Nagita senza nessuna remora, cioè la storia di Candy in alcuni punti è nata a più mani. Per esempio la questione del kilt, che è stato ideato Igarashi, l'immigrazione dalla Scozia, la morte di Anthony, perché Nagita ha raccontato che la morte di Anthony sarebbe dovuta avvenire in altro modo, cioè con Anthony che moriva per via dei pesticidi delle rose, invece poi è stata inventata una morte più impattante. Quindi, però, il tribunale ha riconosciuto così che quella storia è tutta di Nagita. Mentre le immagini non sono di Igarashi, ovvero, sono di Igarashi, però le puoi usare a patto che ti metti d'accordo con Nagita. Cioè, è qualcosa veramente di strano quello che è accaduto, anche rispetto alla diatriba legale. Quindi, sinceramente, tornando anche alla questione della storia appunto che vi dicevo, l'unica cosa certa di questa storia è che il principe della collina è comparso fin dalle prime pagine, quindi era in testa a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura della storia la direzione della storia stessa. Su una pagina molto bella, Facebook, che si chiama Candy Candy My Little Freckled Girl, gestita da una ragazza molto brava che saluto. Ho visto un post molto carino, spero non ne abbia male se cito questo post, di un post di Louisa May Alcott, su Louisa May Alcott, che è l'autrice di Piccole Donne. E mi ha fatto molto riflettere questo post, perché era una cosa che non sapevo, quindi ringrazio chi gestisce questa pagina, perché mi ha fatto sapere una cosa di cui io non ero a conoscenza. Cioè, Louisa May Alcott, quando scrisse piccole donne, ricevette una serie di lettere da parte dei fan, perché i fan chiedevano che Joe si sposasse con Lori. Che cosa fece Louisa May Alcott? Probabilmente nella testa dell'autrice inizialmente Joe non doveva sposarsi, ma era probabilmente destinata a una carriera di scrittrice. però date, insomma, le lettere dei fan, decise di farla sposare, però non cedette alle pressioni dei fan, non la fece sposare con Lori, ma le confezionò un matrimonio su misura con il professor Friedrich Baer. E lì si capisce che la figura di Friedrich Baer è stata inventata dopo, perché non c'è traccia di questa persona nel primo libro di piccole donne, ma compare a un certo punto nel romanzo Piccole donne crescono. Questo per dire che si vede quando un autore e più autori hanno già in testa la linea della storia. E in Candy è successo proprio questo, la linea della storia era già in testa, perché questo principe è comparso nelle primissime tavole del manga e è la figura intorno alla quale ruota tutta la storia. E Nagita, come ho già spiegato in altri video, non rinnega la struttura di questa storia, nemmeno nel romanzo. Poi per quell'operazione di marketing ci piazza i libri di Shakespeare nella libreria di Candy, parla del fiume Avon e fa morire Susanna, che poi tra l'altro non sappiamo neanche quando è morta Susanna. Ed è chiaro che è un'operazione di marketing, è un'illusione, ma per come è strutturato il romanzo non può essere Terence Anoito. In ogni caso questa non è una discussione su Anoito, è semplicemente una mia valutazione sul personaggio di Nagita, che io non posso, dopo tutto quello che ho visto nel fandom, dopo tutte le accuse, i toni aspri, dopo tutto quello che è accaduto e ancora sta accadendo nel fandom, io non posso valutare questa autrice in maniera positiva. Forse non posso proprio classificarla come autrice, come scrittrice, perché non si tratta così una storia. Non mi vieni a dire che tu ce l'hai in testa la storia, però non la racconti e non si capisce bene per quale motivo. Cioè ci vogliamo attaccare alla cultura giapponese, ma non c'è niente di giapponese in questa scelta. Cioè raccontala la storia e basta. Cioè tu mi hai detto che in qualche modo la storia si conclude perché Candy si è sposata, poi mi dici che hai un'altra storia in testa, un continuo, un sequel, hai in mente tanti dettagli, ma non li riveli. Però ti era stata data la possibilità. Allora c'è tutto un detto non detto che non mi piace, che mi delude, che non mi fa considerare più questo romanzo come la vera storia di Candy. Perché se non me la racconti la storia, che storia è? Cioè se mi devo arrovellare il cervello per capire che cosa è successo, perché la villa di Lakewood non è più nelle mani della famiglia Hardley, perché Susanna Marlo è morta. Cioè voglio dire, è inutile. O me la fai leggere questa storia o non me la fai leggere. Quindi alla fine ho concluso che Nagita è una comunissima scrittrice di storie per ragazze destinate prevalentemente ad essere trasposte in manga, ma una comunissima scrittrice che ha attinto a piene mani dalla letteratura per ragazzi di fine ottocento e inizio novecento, con una differenza che mentre tra la fine dell'ottocento e inizio del novecento quelle storie erano effettivamente qualcosa di nuovo, che andavano a denunciare veramente la condizione degli orfani che vivevano in quel periodo. La storia di Nagita è un collage di tante situazioni, di tanti cliché ben miscelati, ma che sono state portate al successo queste situazioni, questi cliché, dai disegni di Garashi e poi dall'anime della Toei. Se avessimo avuto solo il romanzo di Candy, mettiamo nel 2010 esce un romanzo Candy Candy che parla di un'orfana vissuta tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento. Probabilmente sarebbe finito nella pila, nella catasta di libri a tema simile che tutti conosciamo. Nulla di nuovo sotto il sole, quindi Nagita deve sicuramente il suo successo ai disegni, ai disegni, disegni che ancora oggi fanno da traino, perché noi ricordando quei disegni di Candy, ricordando l'anime di Candy, compriamo il romanzo anche se non c'è nessuna illustrazione. Perché vogliamo in qualche modo, io personalmente l'avevo comprato per capire un po' come era proseguita la storia e quali erano poi un pochino le differenze tra il manga e questo romanzo. Ma alla fine la sensazione che lascia questo romanzo è un po'... cioè tu all'inizio quando lo leggi rimani, dici, cosa ho letto. Poi lo rileggi e dici, siano Ito e Albert. Magari ci rimugini un attimo e dici, ma questo è veramente un romanzo? O è solo una versione in prosa del manga? Di quella che è poi la vera storia di Candy? Ecco, l'unica nota positiva e qui concludo, mi sono dilungata, perché quando parlo di Candy mi dilungo, mi dilungo, faccio dei video di mezz'ora. E vabbè, è un po' così. L'unica cosa secondo me positiva del fatto che questo romanzo esista è che un domani un regista può prendere questo libro, chiamare Nagita e dire voglio fare un film, voglio fare una serie. Questo lo può fare. Se invece il regista avesse preso il manga e avesse detto voglio fare un live action, voglio fare una serie, lì per la diatriba legale qualche problemino secondo me sarebbe sorto. Adesso c'è un libro, tranquillamente chiunque, anche Netflix, può prendere questo libro e dire voglio realizzare una serie, cosa alla quale io sarei assolutamente, verso la quale io sarei sicuramente apertissima. Non tutti sono apertissimi a questa cosa qui, ma io sarei curiosissima di vedere la storia di Candy trattata da autori e registi occidentali. Mi piacerebbe tantissimo. Bene, questo è quello che un po' volevo dire, spero di non aver tralasciato nulla. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!